Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo in fiamme ad estro estinto, al km 264 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico, Baccheraia. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Sempre in A12 guidare con prudenza per il vento forte tra Pisa Centro e l'allacciamento con la Statale 1 Aurelia. A Firenze per uno scavo urgente di Toscana Energia dovuto ad una fuga di gas, fino al 2 aprile è chiusa via Piercapponi tra Viale Don Minzoni e via Fra Bartolomeo, istituito al doppio senso di marcia in via Piercapponi entrando da via Fra Bartolomeo. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!